Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, i versi 1 a 3 e 5 a 9. Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici. Là c'era un uomo che da trentotto anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? L'infermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi il tuo letuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo letuccio, si mise a camminare. Quando Gesù gli chiese se voleva guarire, quell'uomo rispose, io non ho nessuno. Una dichiarazione che esprime un sentimento di bisogno, di solitudine, di un uomo che ormai da trentotto anni viveva una situazione di grande sofferenza e dolore. era solo in mezzo a tanta gente, era escluso, forse un emarginato. E ciò aveva fatto maturare, appunto, in questo uomo sentimenti negativi. Il pensiero che aveva ormai riempito il suo cuore da questa affermazione, lo scorgiamo, era, io sono rimasto solo. Io non ho qualcuno con cui confidarmi. Nessuno comprende veramente il mio dolore. Nessuno può aiutarmi. Tutti cercano di evitarmi, di oltrepassarmi. C'è un netto contrasto in questo episodio, in questa scena che abbiamo letto qui nel Vangelo. È un giorno di festa, è un giorno di gioia, dove i giudei salivano, appunto, a Gerusalemme per rallegrarsi, per far festa, ma, distante a pochi metri, a pochi, forse, isolati, c'era un luogo, questo portico, dove vi giacevano tanti infermi, tanti malati, tante persone sole, tante persone forse abbandonate. Qualcosa che contrastava, forse, con il clima attorno a loro. Quante volte e quante situazioni ti hanno fatto esclamare nella tua vita io non ho nessuno. Forse proprio in questo momento stai dicendo ma io non ho nessuno che può aiutarmi. Io non ho nessuno che comprende quello che è nel mio cuore. Ebbene, se invece di focalizzare l'attenzione in questo momento solo su quest'uomo noi allarghiamo un po' l'obiettivo, scorgiamo che in quel luogo c'è Gesù, è presente, è presente e si avvicina proprio a quell'uomo, in quel luogo, in quell'istante e in questo momento Gesù si sta avvicinando a te, lo fa per mezzo della sua parola. In questo momento il Signore ti sta rivolgendo un invito e si sta accostando al tuo cuore e lo fa per mezzo della sua santa parola, il Vangelo, la buona novella di speranza, di salvezza. Gesù si avvicinò a quell'uomo e notiamo subito che Gesù aveva visto il suo cuore, quello che altri non riuscivano a vedere, quello che altri non scorgevano in questo uomo. Ebbene, Gesù lo aveva visto, lo dice il testo. Gesù aveva visto quell'uomo. O forse qualcuno potrebbe dire Gesù aveva visto fisicamente, esteriormente quest'uomo, ma noi sappiamo che Gesù è colui che non solo vede esteriormente, ma egli vede nel tuo cuore. Egli lo aveva visto. Lo aveva visto e aveva visto che quell'uomo stava giacendo, che stava a letto, che era abbandonato. Aveva visto la sofferenza fisica di quell'uomo, ma aveva visto soprattutto la sofferenza morale, spirituale, il suo stato di abbandono e di solitudine. Può, in questo mondo così, a volte frenetico, qualcuno vivere nella solitudine? Ebbene, io credo proprio di sì. Ma l'unico che provò per lui vera compassione fu Gesù. A volte si dice, mal comune mezzo gaudio. L'avete mai sentita questa affermazione? Ebbene, mi pare che quest'uomo non può essere sostenuto nemmeno dai suoi amici, da coloro che come lui vivevano una situazione di grande sofferenza. Ma Gesù lascia quel luogo di festa e si avvicina a quell'uomo. Perché Gesù ha avuto compassione. In tante occasioni Gesù mostra la sua compassione. Un giorno egli, vedendo una grande folla, affamata, ci dice il Vangelo che, vedute le turbe, egli ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Ebbene, se ti senti stanco, se ti senti sfinito, sappi che Gesù è colui che vede il tuo cuore. Sappi che Gesù è colui che ha compassione. E lo scopo della sua opera, il suo grande amore, lo dirigevano proprio verso quell'uomo. Non poteva Gesù rimanere indifferente a quel bisogno, perché lo scopo dell'opera sua è accostarsi a te. Lo scopo dell'opera di Gesù è farti del bene e venire incontro al tuo bisogno spirituale innanzitutto. Ma egli che è lì Dio che può ogni cosa, anche ad ogni altro tipo di bisogno. Egli si accosta a quell'uomo perché il figliuolo dell'uomo, dice il Vangelo, è venuto a salvare ciò che era perito. E Gesù afferma e dice io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza. Gesù aveva visto il suo cuore, Gesù ha visto il tuo cuore. Lo vede, lo vede, non puoi nasconderlo, non puoi sottrarti al suo sguardo amorevole. Egli vede quello che c'è nel tuo cuore. Io non ho nessuno, disse quell'uomo, ma Gesù lo aveva visto. Non solo Gesù lo aveva visto, ma Gesù conosceva ogni cosa di lui. Perché Gesù ti conosce, caro amico, caro ascoltatore, Gesù ti conosce. Meglio di quanto tu immagini, meglio di quanto tu possa credere, Gesù ti conosce. Quell'uomo aveva la convinzione che nessuno poteva realmente comprendere e conoscere il suo bisogno. In realtà non sapeva, o ancora meglio, ancora non sapeva che Gesù lo conosceva. Gesù conosceva quell'uomo. Gesù conosce che ciò che ti tiene separato da lui è il peccato. Gesù conosce che questo peccato ti tiene a volte prigioniero e ti tiene prigioniero in una vita che non vorresti. Una vita che non desideri, una vita che vorresti fosse diversa, vissuta in una maniera diversa, eppure non riesci perché il peccato, la separazione da Dio ti tiene prigioniero, schiavo. Quell'uomo non voleva vivere quel tipo di vita ma ahimè la doveva vivere costretto. Egli conosce cosa ti tiene legato, cosa ti impedisce di godere la vera pace, la vera gioia perché egli conosce il bisogno, il tuo reale bisogno che è innanzitutto un bisogno di perdono, di redenzione, di essere lavato col sangue suo prezioso, di essere perdonato e di ricevere solo quello che Lui ti può dare, conosce ciò che altri non conoscono di te. Allora davanti a una tale conoscenza e davanti a un tale amore e una tale compassione come sono quelle del nostro amato Salvatore Cristo Gesù. Apri il tuo cuore a Lui e di Signore è vero su questa terra io non ho nessuno ma ti ringrazio perché tu ti stai accostando a me. Ti ringrazio perché tu conosci il mio bisogno, il mio stato d'animo, forse la tua situazione familiare e perché no ogni notte insonne quando nessuno riesce a scorgere. Ebbene Gesù ogni notte tu è insonne, forse perché preoccupato, ansioso, nella paura e nello sconforto, convinto che nessuno ti conosce, ebbene il Signore ti conosce. il salmista Davide dice la Bibbia che in un momento di grande difficoltà spirituale, morale si rivolge a Dio e dice quando lo spirito mio è abbattuto in me tu conosci il mio sentiero. Gesù conosceva ogni cosa di quell'uomo che da 38 anni era in questa situazione di dolore, sofferenza e solitudine. ne aveva visto quell'uomo, lo aveva notato in lontananza e si era accostato, lo aveva visto perché aveva visto la sua sofferenza, conosceva ogni cosa di lui, ma il Signore si avvicinò a lui non solo perché lo aveva visto o lo conosceva, ma perché voleva fare qualcosa per lui. L'abbiamo letto. Perché lo scopo di Gesù non è accostarsi a te solo perché ti conosce, ma Egli vuole intervenire nella tua vita, vuole operare nella tua vita. Il Signore desidera mettere mani, se mi passate l'espressione, nella tua vita, nel tuo cuore, Egli vuole operare e farti del bene. Vuoi che il Signore ti faccia del bene? Voleva donargli una nuova vita. Lo notiamo dalla domanda che Gesù rivolge a quell'uomo, vuoi guarire? Vuoi, caro ascoltatore, una nuova vita? Guarire quell'uomo, ricevere la guarigione del corpo per quell'uomo significava ottenere una nuova vita. Finalmente basta con l'andare sempre in quel luogo. Basta chiedere elemosine, basta sperare nell'aiuto di un uomo, di qualcuno. Era una nuova vita quello che Gesù gli stava proponendo, quello che Gesù gli stava offrendo, era una nuova vita, completamente diversa, più bella, più gloriosa, con uno scopo. Ecco quello che ti vuole offrire il Signore in questo momento, una nuova vita, una vita con Lui. Voleva risvegliare nel cuore di questo uomo deluso la speranza nel Signore. Forse puoi essere arrivato anche al punto di aver perso ogni speranza nell'uomo, nella società, forse anche nella religione, nella politica, non ha importanza. Quello che il Signore vuole fare è che la tua speranza invece sia posta in Lui. Egli vuole ravvivare la tua speranza perché la vuole che tu la riponi nel suo nome. Se tutti ti hanno deluso poni fede nel Signore. Marta è un episodio del Vangelo che aveva una grande difficoltà e che ancora dubitava e che forse aveva perso anche ella le speranze di vedere risolto il suo problema si rivolse a Gesù e mostrò il suo dubbio, la sua perplessità. Ma Gesù le disse non ti ho detto che se credi tu vedrai la gloria di Dio? Ma io non ho più speranza ma se credi credi nel Signore Gesù ed Egli ravviverà la tua speranza perché manifesterà il suo amore nella tua vita e la tua speranza forse delusa fino a questo momento sarà ravvivata perché non sarà una speranza vana non sarà una speranza in un uomo ma sarà la speranza in colui che ha dato la sua vita al posto tuo. Voleva compiere un'opera completa in quell'uomo profonda perché il Signore non fa opere a metà potreste ascoltare la testimonianza di quanti hanno ricevuto Gesù nel cuore lo hanno accettato e scoprire che il Signore è colui che compie un'opera completa profonda Cristo può fare ogni cosa ciò che all'uomo è impossibile al Signore è possibile io non ho nessuno aveva detto quell'uomo ma da quel giorno si è dovuto ricredere nessuno mi ha mai notato ma da quel giorno ha dovuto constatare con stupore e credo con molta gioia che invece Gesù lo aveva notato nessuno conosce quello che è nel mio cuore aveva detto quell'uomo fino a quel giorno ma anche in questo egli si è dovuto ricredere perché Gesù gli ha mostrato che invece egli conosceva quello che era nel suo cuore nessuno mi aiuta nessuno può fare qualcosa per me io provo io mi impegno ma nessuno mi aiuta anzi altri mi scavalcano e io non riesco a ottenere ciò che desidero ebbene si è dovuto ricredere anche in questo non è vero che nessuno mi aiuta il Signore lo voleva e lo stava e lo fece aiutando quando Gesù si accostò a quell'uomo e gli chiese se desiderava aiuto non comprese quell'uomo non comprese chi gli stava davanti forse anche per te è un po' ancora oscuro tutto questo ma se apri il tuo cuore se permetti al Signore di operare allora anche tu realizzerai la sua opera nella tua vita quell'uomo esternò io credo che in questa affermazione quell'uomo esternò il resoconto di una vita in una breve frase ma era un uomo che soffriva già da 38 anni esternò il resoconto il bilancio di un'intera vita io sono solo nessuno mi può aiutare non ho nessuno ma il messaggio del Vangelo ancora per noi è meraviglioso oggi accanto a te c'è qualcuno non un uomo non una chiesa non una religione ma Gesù quell'uomo fu raggiunto da Gesù quell'uomo poteva affermare finalmente di aver trovato chi aveva visto ogni suo dolore quell'uomo poteva affermare quel giorno di aver incontrato colui che conosceva in maniera meravigliosa e dettagliata ogni cosa di lui cui l'uomo poteva affermare da quel giorno di aver trovato il Signore della gloria che operava e operò nella sua vita da quel giorno io credo che quell'uomo non poteva più dire io non ho nessuno era una frase che ha dovuto abolire eliminare dalla sua vita vogliamo ringraziare il Signore noi ringraziamo il Signore perché possiamo affermare in questo momento Signore Gesù noi ti ringraziamo perché abbiamo te e la mia preghiera il nostro desiderio è che anche tu possa fare quanto prima questa scelta al punto di poter affermare grazie credevo di non avere nessuno ma ora ho te vogliamo rivolgere i nostri cuori in preghiera e chinare i nostri capi davanti al Signore grazie a tutti grazie a tutti